Eccoci, cari saluti a tutti, innanzitutto ai partecipanti, vedo nomi di persone molto care, spero che con molti ci potremo vedere non tramolto a Genova, la nostra assemblea annuale, e grazie a coloro che ci illumineranno con le loro ricerche. Permettetemi di partire ringraziando Anna Maria Marras tuttavia, che proprio in quanto coordinatrice della Commissione tematica Tecnologie digitali per i beni culturali, ci sta davvero aiutando molto per dare un posizionamento specifico su questi importanti temi nell'ambito ICOM. Quindi le parole chiave, musei tra virtualità e realtà, sono certo che sarà di grande ispirazione per noi. Grazie per le testimonianze e le esperienze di CNR, le dottoresse da Pietroni e Sofia Pescarin. E poi credo che saremo tutti interessati sul progetto di architettura e curatela del VTM, grazie a Sergio Pace, Manfredo di Robilano, Francesca Favaro, Valeria Dallascara, appunto del Politecnico. E poi sarà finale a tutto gas, credo, col Museo dell'Automobile di Torino, al VTM di Politecnico, con Mariela Menegazzi, Mengozzi e Ilaria Fani. Guardate, l'evoluzione dei musei virtuali, riproduzione o realtà altra. Quando ho sentito il titolo, io sono un povero geologo, quindi cultura limitatissima, martelli e rocce, però mi è venuto in mente subito Walter Benjamin, no? 90 anni fa, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Sono sicuro che questo libro è stato su tutti i vostri comodini quando eravate giovani studenti. Quando si parlava ancora di quest'aura dell'originalità, ci si interrogava sul rapporto tra la dimensione dell'originale e la riproducibilità che apriva a questa dimensione politica, no? A di grande apertura, e lì il problema era a quale politica. In quegli anni andava di moda le persone con il baffetto, e quindi era un po' una contestazione di come la riproducibilità era strumentalmente utilizzata dalla politica di quegli anni. Ma insomma, scusate, adesso taglio corto perché sapete che tendo ad essere un po' chiacchierone, però insomma anche riproduzione o realtà altra, insomma sono tre parole fondamentali. La realtà oggettuale per sé, no? È l'oggetto per sé, quello che caratterizza i nostri musei. Ma è una realtà quella? Siamo proprio sicuri che è una narrazione che lo contestualizza. E quindi anche la realtà che noi abbiamo nel titolo e che lo consideriamo come la realtà dei nostri musei, di fatto è una dimensione storica e pertanto è un portato sociale e politico. La sua aura, anche la sua aura, mi dispiace per Walter, è una dimensione assolutamente storica e politica. Allora a questo punto andiamo davvero, si caliamo nella nostra società dove la riproduzione che porta alla moltiplicazione dei messaggi attraverso dei semiafori rivoluzibili. Ma ancora in più, questi sono soggetti che sono portatori di storie, e quindi si legano alla realtà che è uno storytelling attraverso una situazione di riproducibilità, ma di nuovo siamo in una situazione di crescita, di modificazione, che però trova davvero un punto da terrazzo interessante nel concetto di realtà altra e quello che si sta riproducendo nel mondo ora, digitale, che diventa uno spazio di creazione di nuove forme di realtà, anche autonoma. E quindi c'è una realtà autonoma e creata, ma anche co-creata, quindi la possibilità di creare questa partecipazione è assolutamente attiva nel contesto della realtà altra che questi strumenti ci possono dare. E quindi, davvero concludo, vedo un sostanziale parallelismo dell'evoluzione, sia del Meseo per sé, che comprende bene quanto il suo oggetto, la sua sostanziale unicità del reperto esposto in realtà è da utilizzare e da prendere in considerazione nella sua dimensione di soggetto promotore di storia, e quindi per certi versi di pretesto per una dimensione, e la dimensione digitale che in realtà non ha più bisogno di questo pretesto, fittizio, ma opera direttamente in questa forma di costruzione di dialoghi e quindi una costruzione e generazione di significati. Io credo che su questo davvero avremo un'evoluzione parallela sia della dimensione della virtualità con le sue tecnologie e la sua immersività che sarà poi operativa anche attraverso le device che andranno a svilupparsi negli anni nei contesti in open air, nei contesti dei dispositivi museali in rapporto con gli oggetti veri del museo. Quindi scusate se l'ho tirata lunga un po' come sempre, ma mi piace intervenire e salutarvi tutti e poi soprattutto mettervi in ascolto e imparare molto dalle vostre relazioni. Grazie davvero a tutti. Grazie, grazie Michele. Allora inizio io facendo un po' una breve presentazione, una breve introduzione per quanto riguarda l'aspetto appunto dei musei virtuali. Spero che riusciate a vedere bene insomma il mio schermo, se no altrimenti avvisatemi. Inizio con questo suo piccolo schema in cui riporto indietro di purtroppo in un periodo non bellissimo che è quello di qualche anno fa dell'emergenza pandemica in cui ci sono stati tantissimi esempi e tantissimi progetti che hanno riguardato anche i musei virtuali. Però come metteva in evidenza il report dell'UNESCO Museum Around the World in the Face of Covid-19 si parla un po' di, mette un po' l'accento sul fatto che spesso questi musei virtuali erano semplicemente delle repliche o replicavano spesso l'esperienza senza dare quel qualcosa in più, quell'informazione che diversifica l'esperienza che è forse un elemento molto importante. Che cos'è un museo virtuale? Partiamo dalla cosa più difficile che è dare una definizione a qualcosa, che è sempre un aspetto molto complesso perché definire un qualcosa è come mettere a volte dei punti fissi, dei punti fermi ed è difficile trovare sempre, trovare, diciamo, che tutti siano d'accordo in questa definizione. Ho preso questa definizione che abbiamo inserito all'interno del lavoro della Commissione Tecnologie Digitali per il Bene Culturale, il lavoro è quello del glossario di digitale e tecnologia, a cui ha collaborato anche Eva Pietroni e alcune altre colleghe del CNR. La definizione che noi abbiamo inserito all'interno del glossario per quanto riguarda il museo virtuale è quella di un'entità digitale che attinge alla caratteristica di un museo al fine di integrare, valorizzare o aumentare l'esperienza museale attraverso la personalizzazione, l'interattività e la ricchezza dei contenuti. Come un museo fisico, anche il museo virtuale è concepito per essere aperto e accessibile al grande pubblico. Inoltre, le pratiche curatoriali devono garantire la validazione scientifica dei contenuti e la qualità dell'esperienza. Vedete qua, insomma, ovviamente come rispetto a quello che viene messo in evidenza dal report dell'UNESCO, sia in realtà molto importante la personalizzazione dei contenuti, quindi non una mera replica di quelli fisici, ma anche l'aspetto dell'accessibilità. E a questo punto, data questa definizione, parto da alcuni aspetti. Quindi perché vengono realizzati i musei virtuali? Ovviamente queste sono soltanto alcuni dei motivi e sicuramente ce ne sono tanti altri, però insomma dovendo fare una sintesi in questo poco tempo, questi sono quelli a mio parere più importanti. Ovviamente il coinvolgimento dei visitatori, questo è un aspetto molto importante. Quindi cercare di rendere i visitatori più partecipi e coinvolti delle narrazioni. Come ha ben detto Michele precedentemente, l'aspetto narrativo è sicuramente forse l'aspetto che può diversificare ulteriormente la virtualità rispetto alla realtà. Per scopi educativi, quindi ovviamente l'aspetto educativo in cui subentra, anche qua hanno inserito ovviamente l'aspetto del gioco, ma l'ho inserito in un altro punto di questo piccolo schema, è sicuramente importante per raggiungere le diverse generazioni. Quindi questo aspetto è fondamentale. Rendere gli allestimenti interattivi, si parla spesso di mostre virtuali, interattive, da Gog e Spira, di esperienze, no? Per quanto riguarda il virtuale utilizzato come veicolo di esperienza per quanto riguarda determinati contenuti, soprattutto quelli delle mostre. Fornire nuovi contenuti, contenuti diversi, contenuti altri, che possono ovviamente favorire anche in questo caso il coinvolgimento. Quindi ritorniamo all'aspetto del coinvolgimento, che è sicuramente uno degli aspetti più importanti. ci dà l'opportunità di costruire o ricostruire contesti, oggetti, ambiti, esperienze. E questo è un aspetto che spesso non possiamo fare, no? Nella realtà, quindi l'ambiente ricostruito, l'ambiente immersivo, ci dà l'opportunità di ricostruire o costruire nuovi contesti. L'aspetto che si è messo in evidenza anche dalla definizione data nel glossario, l'aspetto dell'accessibilità e dell'inclusione. Quindi realizzare dei musei virtuali ci permette di favorire anche l'accessibilità dei musei stessi, dei contenuti, delle narrazioni, quindi aperti ad un pubblico più ampio. Oltre all'accessibilità, ovviamente, anche quello dell'aspetto dell'inclusione, perché queste tipologie di tecnologie ci permettono anche di costruire degli ambienti che possono essere anche inclusivi, quindi che possono abbattere le barriere. E non da ultimo, forse ancora non tanto usato in ambito culturale, però la realtà virtuale è molto utilizzata anche in ambienti medici, di riabilitazione, per rendere i contenuti appunto, per portare. Sappiamo che comunque l'esperienza museale, da diversi studi che sono stati pubblicati anche recentemente, fa bene. Andare a un museo, fruire dei contenuti culturali di un museo, fa bene alla salute, crea benessere. E quindi anche la realtà virtuale può essere uno strumento di benessere. Come vengono, sempre in ottica di sintesi, ovviamente, perdonatevi, le opzioni possono essere molto più ampie, però in questo caso ho cercato di sintetizzare. Ovviamente l'esperienza può essere vissuta sia online, nel museo virtuale può essere sia online che on-site, quindi abbiamo la possibilità di vivere le esperienze virtuali online attraverso dei browser, le app, oppure attraverso degli allestimenti, delle postazioni che sono situate all'interno delle strutture stesse. Quindi possiamo avere a disposizione dei visori, dei monitor, ma anche dei guanti, delle tute e altre tipologie di dispositivi che permettono proprio di aumentare l'esperienza immersiva e di renderla sempre più accessibile e inclusiva. Quali sono queste alcune parole chiave che mi piace mettere in evidenza? Ovviamente parto prendendola un po' alla larga dalla digitalizzazione, ovviamente è da dove nasce tutto, perché se non abbiamo dei contenuti digitali è difficile che poi riusciamo a creare degli ambienti virtuali. Quindi l'aspetto, la digitalizzazione che si porta dietro ovviamente una serie di tematiche che riguardano i formati, l'accessibilità dei contenuti, la qualità di questi contenuti come vengono realizzati è sicuramente un aspetto fondamentale che ci permette poi di creare gli ambienti immersivi. Questi ambienti immersivi in cui l'utente deve avere la possibilità di personalizzare la propria esperienza. In questo caso, ripeto, è importante l'aspetto dell'inclusione, dell'accessibilità, di dare a ogni utente la possibilità di personalizzare secondo la propria, non soltanto la personalità, ma anche il proprio essere, l'esperienza che va a vivere. Che va ovviamente perché passa attraverso l'embodyment, quindi la percezione che ha attraverso il proprio corpo. Le diverse modalità di interazione che sono fondamentali sempre per la personalizzazione e per l'inclusività dell'esperienza, la possibilità di creare un avatar o di interagire con altri avatar all'interno di questi ambienti, l'importanza delle interfacce, delle interazioni gestuali, quindi quanto è importante appunto non soltanto l'ambiente che viene creato, ma all'interfaccia di quest'ambiente che ci permette poi di navigare e di interagire anche in un modo personalizzato, confortevole, di farci sentire a nostro agio in questa esperienza. Ovviamente va da stanza e l'orientamento, è un aspetto molto importante nell'ambiente immersivo, creare, farsi che l'utente non si senta disorientato in questa esperienza e anche l'aspetto di quanto dura l'esperienza del tempo perché anche questo è un aspetto fondamentale perché per rendere appunto tutto molto più confortevole, dare anche un tempo, una situazione temporale a questa nostra esperienza. L'aspetto dei contenuti, noi possiamo, che sono, anche qua devono essere comunque concepiti in un'ottica di inclusione e accessibilità, quindi sia contenuti testuali scritti che appaiono scritti in un determinato modo, ma anche suoni, voci, comunque contenuti audio che possono permettere di guidare l'utente in questa esperienza. L'aspetto del gioco, che è un aspetto che è appunto sempre nell'esperienza virtuale, sempre, non sempre, però è sicuramente un aspetto molto importante e le nuove esperienze di questo tipo puntano molto anche sull'aspetto ludico, quindi sull'aspetto del gioco delle persone. learning e social interaction, sempre nell'ottica di una, di un ambiente inclusivo in cui si facilita anche ovviamente la, l'interazione e l'apprendimento, no, del, da parte degli utenti e poi chiudo un po' questa, questa carrellata veloce di alcune parole chiave col termine insomma di moda in questo periodo metaverso, quindi questa, quest'ambiente in cui anche i musei, questi ambienti anzi anche in cui i musei stanno sperimentando le proprie esperienze. Alcuni riferimenti importanti ovviamente sono minimi e poi ci sono tante pubblicazioni, tra l'altro Sofia Pescarina e Eva Pietroni hanno scritto molto su, su questo tema, quindi la loro bibliografia è molto ampia, però volevo ricordare visto che è uscito recentemente proprio qualche, l'ultima versione qualche settimana scorsa, il report di NEMO Digital Learning in Education in Museum Innovative Approaches and Insights che ovviamente è scaricabile gratuitamente dal sito di NEMO dove c'è tutta una parte dedicata alla raccolta anche delle esperienze di realtà virtuale nei musei europei. poi ovviamente il glossario digitale tecnologie ma anche il report di HELP che è il progetto che Icom ha portato avanti dall'anno scorso, terminato l'anno scorso, Heritage Education, New Web Formants and Free License Opportunity for Dissemination, Co-Creation and Open Data dove c'è una parte di survey condotto per sempre per analizzare l'offerta digitale dei musei in un'ottica appunto educativa e le esperienze virtuali sono state diverse, insomma, si segnalano diverse esperienze e poi non da ultimo anche se cronologicamente andiamo un po' indietro nel tempo sicuramente il progetto V-Master dove tra l'altro da cui tra l'altro la definizione del glossario delle tecnologie e la definizione di museo virtuale prende spunto è un po' diciamo l'amplia e sicuramente uno dei progetti è stato uno dei progetti più importanti per quanto riguarda i musei i musei virtuali quindi questa è un'ottica di riassunto un po' di attraverso le parole chiave poi sicuramente insomma dal 1999 con la si dice la prima esperienza di museo virtuale con Geoffrey Shaw poi non si sa è sempre un po' difficile datare quando è stata la prima esperienza perché poi buca fuori sempre sempre qualcos'altro penso che le cose siano un po' cambiate e lascio la parola adesso a Sofia Pescarin che ci racconta alcuni dei progetti che la vedono coinvolta nel recenti insomma i più recenti Sofia ti lascio la parola grazie mille Anna veramente grazie una bellissima occasione questa sono molto felice di essere qui sono una ricercatrice del CNR ISPC insieme alla collega Eva Pietrone che parlerà dopo di me e in realtà oggi vi volevamo raccontare alcune esperienze chiave che hanno segnato e stanno segnando un po' l'evoluzione quello che sta succedendo dal punto di vista dei musei virtuali hai citato VMAST che è stato questo progetto è stato il network europeo sui musei virtuali che si è concluso nel 2014 ci sono passati ahimè così dieci anni mi fa paura ricordarlo però effettivamente alcuni mattoncini di base erano stati messi allora oggi vi volevo raccontare quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo a partire diciamo proprio stimolati da quello che è accaduto con il covid in particolar modo con quelli che sono gli ambienti ibridi stiamo cercando sempre di più di recuperare anche la dimensione tangibile e fisica dell'esperienza digitale all'interno dei musei virtuali vi condivido brevemente una presentazione il progetto di cui parlerò si chiama Brancacci Pop ovvero Point of View eccoci qua e che è un buon prototipo di ricerca quindi diciamo che abbiamo cercato un po' di sperimentare nel campo della virtualità e dell'ibridità nel tentativo di mettere insieme la parte il nostro corpo la parte fisica che è fondamentale nelle esperienze che abbiamo nella nostra vita la parte fisica che è legata al patrimonio virtuale e le tecnologie interattive innanzitutto che cos'è un'esperienza ibrida per spiegarlo cito un volume bellissimo che consiglio a tutti che si chiama Hybrid Museum Experiences Theory and Design che spiega chiaramente che le esperienze ibride sono quelle che utilizzano nuove tecnologie per aumentare espandere e alterare l'esperienza fisica di una visita di un museo facciamo un esempio ecco vi cito un esempio che viene da un vecchio progetto vecchio un progetto di qualche anno fa che si chiama GIFT un progetto europeo nel quale ad esempio è stato sviluppato un'applicazione che prevedeva un'app sul telefonino che consentiva ai visitatori di registrare delle riflessioni proprio registrare l'audio di alcune riflessioni personali riguardo agli oggetti di una collezione di un museo e di inviare di mandarli come un regalo un gift da quel nome a qualcuno che a sua volta poteva aprire il regalo e davanti all'opera ascoltare il video messaggio e lasciare un altro messaggio in una sorta di guida personale completamente diversa non curata in maniera diversa invece che dall'alto un po' dal basso ecco Brancaci Point of View è un'esperienza ibrida virtuale che ha come obiettivo quello di cercare di superare alcuni limiti di quelli che sono quelli che chiamiamo tradizionalmente virtual tour e nasce un po' insoddisfazione rispetto a quell'offerta online dei virtual tour intesi come visita in ambienti aree di musei o percorsi museali soprattutto attraverso acquisizioni video e foto 360 in realtà il ragionamento che abbiamo fatto è legato molto al concetto di autenticità di un'esperienza cioè sappiamo dagli studi che riguardano il settore del turismo che i turisti soprattutto nell'ambito del turismo culturale cercano esperienze che siano autentiche oltre che memorabili e significativi e quindi la parola autentica per noi è stato come dire lo stimolo per le nostre ricerche abbiamo cercato quindi di cambiare completamente il concetto di virtual tour e ibridizzarle in un certo senso che cos'è la cappella brancace è un monumento che si trova all'interno della chiesa del Carmine a Firenze oltrarno è un come dire è un gioiello di rinascimento fiorentino con che che vede come dire che ha visto alcuni degli artisti migliori della nostra storia come Masaccio Masolino e poi Filippino Lippi lavorare insieme a Masaccio Masolino e poi successivamente Filippino Lippi ora la cappella brancacci oltre ad essere se da una parte è un'opera d'arte meravigliosa dall'altra si trova in una situazione un po' di svantaggio cioè si trova in una zona del comune di Firenze oltre Arno che non è nel tour nei percorsi di visita tradizionali soprattutto dei turisti quindi soffre un po' di questo tipo di problematica e secondo elemento fondamentale è che un paio di anni fa sono emerse alcune problematiche dal punto di vista della conservazione del monumento perché sono emerse alcuni problemi riguardo a alcuni distacchi della pellicola pittorica del monumento e questo ha dato l'avvio a una campagna di monitoraggio del che ha portato alla parziale diciamo chiusura del monumento il monumento è visitabile tuttora oggi c'è una un un cantiere all'interno ed è visitabile solo su prenotazioni in determinati momenti della settimana e orari del giorno quindi questo ci ha dato un po' lo stimolo e l'avvio che cosa abbiamo pensato abbiamo pensato di scusate la grafica molto vesica è un po' un sistema molto visivo e semplice per farvi capire di cosa stiamo parlando abbiamo pensato di consentire non più una persona ma un gruppo di visitatori di esplorare insieme il monumento della cappella Brancacci accompagnati utilizzando il proprio smartphone o un tablet o mettendo a disposizione un visore per la realtà virtuale immersiva il tutto accompagnati da una guida da un esperto che può essere presente insieme a loro e quindi può accompagnarli in questo percorso di esplorazione svolgendo attraverso una narrazione che può essere come dire realizzata e personalizzata secondo del tipo degli utenti in realtà il modello che abbiamo pensato concettuale è fatto anche per pensare e coinvolgere i nostri visitatori anche nel caso in cui si trovino a casa e anche nel caso in cui alcuni si trovino in una come dire in una location dall'altra parte del mondo in una classe e mentre alcuni sono magari fisicamente in sito al museo con la guida che si trova al museo l'esperienza può essere comunque unica questo è un po' un esempio di quello che succede attraverso l'applicazione di Brancacci Pop i visitatori arrivano selezionano un proprio personaggio perché volevamo lavorare proprio sull'elemento anche di personalizzazione di assegnazione di un ruolo incontrano la guida che si presenta introduce l'esperienza e li invita a scambiarsi proprio come un momento di ice breaking invita a esprimere e a esporre il perché della scelta personale del determinato in questo caso personaggio descrive un task perché tutta l'esperienza è fatta attraverso si svolge attraverso dei piccoli obiettivi che la guida pone al gruppo i task vengono quindi gli obiettivi vengono svolti insieme dal gruppo alla fine del di questo lavoro collaborativo la guida invia un POV un point of view un punto di vista che appare su tutti i device in maniera analoga indipendentemente dal tipo di device che gli utenti utilizzano indipendentemente se gli utenti abbiano uno smartphone un tablet un visore immersivo un oculus o siano a casa davanti a un pc questo è estremamente importante perché consente alla guida di comunicare con un gruppo con il gruppo di persone anche se non si trovano fisicamente nello stesso luogo attraverso un meccanismo fatto di domande provocatorie che stimola lo scambio e la riflessione tra i visitatori per poi concluderla con una spiegazione finale una narrazione che chiude diciamo così l'esperienza e consente ai visitatori di arrivare alla fine abbiamo dovuto per realizzare tutto questo cosa abbiamo fatto abbiamo acquisito tutta l'informazione relative alla cappella Brancacci in tre dimensioni non soltanto la cappella ma anche la chiesa abbiamo fatto un lavoro di acquisizione estremamente complesso sia dal punto di vista geometrico che delle immagini abbiamo fatto una campagna di fotogrammetria a diversi a diversi livelli sia sferica che tradizionale e dal tutto il lavoro di fotogrammetria e di scansione abbiamo realizzato un modello 3D che è stato estremamente ottimizzato senza perdere con una grande attenzione a non perdere la risoluzione e il dettaglio dell'opera d'arte e abbiamo integrato anche i dati della diagnostica che ci arrivavano dai colleghi del CNR che lavoravano nel cantiere soprattutto quelli relativi all'ultravioletto questo vedete il modello finale che è stato utilizzato per sviluppare l'applicazione il modello che si trova che è a disposizione in Brancacipov nell'esperienza Brancacipov e che viene esplorato in 3D in tempo reale questo è un po' l'esempio della sovrapposizione tra quelle che sono le texture la mappatura del colore e quello che invece è la mappatura dell'ultravioletto sulle superfici e tutti i dati realizzati sono andati a finire in una digital library 3D e tutto questo è stato possibile grazie al fatto che abbiamo utilizzato come strumento e come framework di riferimento un un progetto open source che si chiama Aton che il nostro istituto di CNR sviluppa da diversi anni e che è proprio uno strumento un framework costruito ad hoc per realizzare ambientazioni web 3D interattive XR multi piattaforma e multi device per coinvolgere tutto questo tipo questi tipi diversi di utenti abbiamo lavorato sulle interfacce abbiamo realizzato quattro diverse interfacce la prima è quella della guida la guida come vedete qua sulla sinistra ha una sorta di console attraverso la quale visualizza i diversi partecipanti quello che stanno facendo e visualizza anche la narrazione che come dire che li accompagna una secondo tipo di interfaccia che è quella dei visitatori che hanno un tablet o uno smartphone così come un'interfaccia per i visitatori che invece stanno sono all'interno della cappella Brancacci in maniera completamente immersiva con un visore per la realtà virtuale noi abbiamo lavorato con gli oculus infine un'ultima interfaccia per uno schermo condiviso che viene utilizzato nelle situazioni in cui l'esperienza viene fatta in copresenza quindi nello stesso spazio fisico è stato un po' l'elemento che abbiamo sperimentato con più di 150 visitatori alla fine dell'anno scorso questo è il framework di cui vi parlavo Aton che viene sviluppato dal collega Fanini nel nostro laboratorio e che potete trovare se interessati online già digitando Aton e CNR lo trovate le componenti quali sono e di cosa abbiamo bisogno per fare questa per arrivare a cucinare questa questa ricetta nel nostro caso abbiamo utilizzato cinque diversi dispositivi portatili dei tablet ma in realtà come vi dicevo l'applicazione funziona anche per smartphone un oculus un videoproiettore per la diciamo l'interfaccia comune visibile a tutti e una una postazione per la guida con a disposizione un pc e l'esperienza funziona proprio così i visitatori arrivano trovano sei personaggi in cerca d'autore ciascuno accompagnato da un QR code ogni ogni visitatore ad ogni visitatore viene chiesto di scegliere il proprio personaggio inquadrando il QR code i visitatori poi si accomodano e a questo punto incontrano la la propria guida che comincia questa esperienza che è fatta di narrazione di richiesta di trovare qualche elemento di compiere qualche tasche e di scambio tra le persone queste sono alcune immagini appunto dei vari momenti dell'esperienza come vedete in questo caso i visitatori sono alla ricerca di un particolare che è stato richiesto dalla guida per poi arrivare alla qui è qui il colpo di scena perché abbiamo l'Anna Maria Marras con l'Opulus per arrivare alla fine a quello che per noi è stato il nostro reward ovvero consentire alla fine di tutta questa esperienza che dura tra i 25 e i 35 minuti e consentire ai visitatori di mettere i panni dal restauratore entrare all'interno in maniera molto embodied cioè piena completa all'interno della cappella Brancacci ed esplorarlo con in mano una torcia per l'ultravioletto e quindi c'è questa parte finale che per noi è stata il momento del reward questi sono i due momenti in cui è stata attestata l'applicazione a Turisma prima lo scorso ottobre e poi successivamente durante un evento alla Manifattura Tabacchi sempre a Firenze questo è un po' quello che ecco che cosa stiamo facendo adesso siamo nella fase dello sviluppo dell'applicazione completamente immersiva e remota quindi quello che stiamo facendo e che testeremo nei prossimi mesi è lo stesso tipo di esperienza però accessibile attraverso Meta lo store di Oculus e Facebook cerchiamo di organizzare cercheremo di organizzare degli eventi anche di testing per noi per visitatori che si trovano a casa con il proprio Oculus mentre la nostra guida sarà al museo quindi questo sarà diciamo il momento di testing anche per noi e di conclusione del nostro progetto concludo giusto per invitarvi a un evento che organizziamo nel prossimo settembre in Salento si tratta del workshop di Eurographics su Graphics in Cultural Heritage perché durante questo evento vorremmo proprio parlare di questi argomenti e aprire un po' la discussione anche sulle tematiche dell'ibridità e vi ringrazio grazie grazie Sofia veramente molto interessante insomma poi appunto come avete visto ho provato Brancacci POV devo dire che l'esperienza mi è piaciuta tantissimo quindi non vedo l'ora di riprovarla ancora adesso lascio la parola ad Eva non so sì Eva ci sei? sì sì certo che ci sono mi sento Eva Pietroni sempre ricercatrice SPC ti lascio ti lascio subito la parola scusate sono un po' corta nelle presentazioni ma così vi faccio doppio ampio spazio alle presentazioni perfetto grazie grazie Anna grazie per questo invito condivido anche io il mio schermo perfetto allora io vi introdurrò brevemente questo progetto Codex 4D per rappresentare i contenuti visibili e invisibili dei manoscritti antichi è un progetto che è ancora in corso verrà terminato alla fine di quest'anno finanziato dalla regione Lazio che stiamo portando avanti assieme al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Tor Vergata e in collaborazione con due importanti biblioteche storiche di Roma la Angelica e la Casanatense e mi fa piacere presentare questo progetto perché è stata un po' un'occasione per il nostro istituto che come sapete si è costituito dalla fusione di vari precedenti istituti sui beni culturali del CNR e quindi ha unito un po' tutto il comparto delle scienze umane delle tecnologie anche della diagnostica e quindi è stata un po' una prima occasione anche per cominciare a collaborare in maniera trasversale e a inserire e includere in maniera sostanziale diciamo all'interno dei nostri musei virtuali dei nostri progetti per la valorizzazione anche tutto quello che è il dominio delle scienze della diagnostica dello studio dei materiali e delle tecniche esecutive su cui stiamo lavorando anche per formulare delle nuove modalità appunto di integrazione nei modelli virtuali e nello storytelling quindi questo progetto è molto entusiasmante per una serie di persone proprio perché ci dà questa opportunità di condividere linguaggi anche diversi a volte all'interno di uno stesso framework gli obiettivi del progetto Codex sono quindi incrementare la documentazione e la conoscenza di importanti manoscritti antichi considerando il manoscritto antico diciamo come un oggetto complesso dotato di un corpo vivo fatto di tanti materiali e quindi creare un'esperienza multidisciplinare all'interno di ambienti di realtà virtuale di mixed reality dedicati ovviamente al manoscritto antico rendendo fruibili la forma e la struttura quindi quello che dicevo diciamo la tridimensionalità il corpo del manoscritto che generalmente non viene quasi mai comunicato e reso fruibile nei principali siti web i contenuti e i significati naturalmente racchiusi nel codice sia nel testo che nelle sue parti figurative miniate e poi i materiali costitutivi e lo stato di conservazione tutte queste informazioni appunto di questi ambiti vengono integrate all'interno di un modello virtuale multidimensionale in cui sono resi fruibili tanto gli elementi visibili superficiali che quindi vengono documentati nello spettro della luce visibile RGB e tanto gli elementi invece invisibili che sono nascosti o inaccessibili negli strati sottostanti quindi le stratigrafie profonde che sono sotto la pellicola pittorica sono sotto lo strato superficiale della carta nelle coperte vediamo in queste immagini alcuni esempi che sono riferiti nel primo caso ad un testo sepolto nel foglio di guardia posteriore del libro che nella luce visibile non è evidente mentre invece se indagato nel medio infrarosso con delle tecniche di termografia viene evidenziato o altrettanto nel caso di miniature la presenza negli strati preparatori di elementi che poi sono scomparsi sono stati cancellati nella finitura pittorica e chiaramente diciamo indagare un manoscritto antico in questo modo significa davvero conoscerne un po' la sua vicenda storica le vicende conservative episodi che possono essere legati alla censura o comunque anche tutte le tracce della storia che sono impresse nella materialità e che sono interessanti sia per la conoscenza del manufatto ma anche possono diventare elementi di narrazione molto interessanti anche per il pubblico e infatti a questo scopo un obiettivo del progetto oltre a incrementare la conoscenza e la documentazione è anche creare delle nuove forme di visualizzazione scientifica e di narrazione museale per sensibilizzare il pubblico soprattutto del museo appunto al tema del manoscritto che è sempre un oggetto estremamente difficile da veicolare spesso negletto dai visitatori perché sappiamo insomma soffre di tutta una serie di condizioni di scarsa accessibilità scarsa illuminazione e poca comprensibilità e siamo partiti naturalmente all'inizio del progetto con il fare una sorta di benchmarking e di stato dell'arte di quelli che erano i progetti più importanti a livello nazionale e internazionale sui manoscritti antichi partendo dai siti web dai progetti online dalle applicazioni e da anche gli articoli scientifici e soprattutto per capire in quale in quale punto di questo panorama il nostro progetto potesse collocarsi e che tipo di valore aggiunto poter sviluppare e questo questo tipo di attività è andata in parallelo con un'indagine sui potenziali utenti ovvero noi abbiamo intervistato un campione di persone alcune erano gli stessi partecipanti al progetto quindi erano dei ricercatori partner che conoscevano molto bene quali erano gli obiettivi che inizialmente avevamo formulato e per capire comunque più approfonditamente quali fossero le loro aspettative chiaramente persone con differenti background e poi in parallelo abbiamo anche intervistato delle persone esterne al progetto che nulla conoscevano appunto del progetto per capire quali fossero i loro bisogni i loro desideri nell'approcciare un tema sul manoscritto antico quindi diciamo questo incrociare il benchmarking con le personas le cosiddette personas ci ha permesso di capire meglio su quali tipologie di contenuti puntare soprattutto come metterli in relazione e come costruire l'architettura dell'informazione abbiamo lavorato su alcuni codici casi studio insomma pilota chiaramente è un progetto assolutamente espandibile ora stiamo lavorando più che altro sulla metodologia e abbiamo avuto la fortuna di poter documentare dei manoscritti molto molto belli e preziosi siamo partiti inizialmente dal manoscritto che vedete in basso quello chiuso che è della biblioteca Casanas che ci ha permesso di testare un po' i metodi di acquisizione interessante perché questo è costituito da diversi materiali come potete vedere in questa immagine che sono il legno il cuoio la cerniera in metallo e quindi capire come le tecnologie che stavamo impiegando potessero avere delle risposte diverse e anche un impatto e un'efficacia diversa rispetto ai vari materiali fatto questo e abbiamo invece iniziato una vera e propria campagna completa di digitalizzazione su questi tre manoscritti invece che vedete sopra che sono della biblioteca angelica un manoscritto che è un po' il loro il loro più prezioso diciamo il loro manoscritto più prezioso che è il Balneis Puteolanis della metà del 200 con testo federiciano è un manoscritto splendido con queste miniature meravigliose viene di dorature che racconta è un poema racconta le proprietà terapeutiche curative delle acque di Pozzuoli e dei campi flegrei rimaneggiato nel tempo quindi diciamo la successione dei fogli non è quella originaria ma è comunque un manoscritto veramente pieno di sorprese e poi una divina commedia di Dante che è stata appunto composta questo manoscritto proprio pochi anni dopo la morte del poeta dove l'inferno ha tutta quanta una serie di miniature che introducono i vari canti e poi un libro d'ore dell'inizio del quindicesimo secolo in cui le miniature sono di scuola francese era un libro di preghiere per la devozione dei laici esibizione anche del loro lusso data la ricchezza delle ornamentazioni anche qui delle dorature abbiamo utilizzato le tecniche più avanzate per la documentazione digitale e abbiamo anche depositato un brevetto che diciamo per un metodo che ci permette di ricostruire modelli tridimensionali direttamente a partire dalle immagini all'infrarosso acquisite con la termocamera utilizzando comunque integrando tecniche di fotogrammetria e di termografia appunto la fotogrammetria per documentare e modellare la superficie e la termografia per documentare con il medio infrarosso gli strati sottostanti e anche modellarli quindi infatti qui vediamo un esempio di modello 3D realizzato direttamente utilizzando le immagini del medio infrarosso a diversi livelli di profondità perché la termografia permette di acquisire diciamo con dei tempi diversificati immagini di livelli sempre più profondi quindi sotto la superficie e poi a questo modello appunto stratigrafico sono state aggiunte tutta quanta una serie di informazioni che derivano dalle analisi chimiche microbiologiche fisiche condotte grazie alla collaborazione del nostro MOLAB che è il laboratorio mobile per la diagnostica dell'infrastruttura dell'Eritage Science Iris per documentare materiali tecniche esecutive stato di conservazione non mi dilungo su questo i risultati del progetto sono fondamentalmente la realizzazione di tre diversi output ovvero una web app 3d per la visualizzazione scientifica una vetrina olografica per la fruizione museale e un sito web di presentazione generale del progetto in cui vengono raccontate le metodologie che sono state utilizzate e poi c'è tutta una sezione con un glossario narrato molto interessante insomma per permettere a chi non ne sa molto di entrare in questo mondo del manoscritto antico in un modo anche divertente e semplice della web app vi mostro direttamente un brevissimo video anche questa è realizzata con il nostro framework XR open source Aton che appunto ha già citato Sofia e questa ci permette in un ambiente interattivo di visualizzare in tempo reale il il manoscritto di prendere delle misure questo è la coperta del libro delle ore di aprire delle altre pose e quindi indagarle utilizzando in questo caso una lente rivelatrice che ci permette di andare a esplorare anche gli strati sottostanti quindi queste immagini in scala di grigio sono i termogrammi a vari livelli di profondità con una cura particolare per il rendering insomma quindi con una resa dei materiali molto attenta alle riflessioni anche della luce sulle dorature questo è il debalneis ugualmente qui abbiamo questa lente rivelatrice che ci permette di vedere sotto la superficie e poi entriamo nel profilo editor quindi abbiamo fatto un login e come utenti accreditati possiamo anche creare dei contenuti aggiuntivi a differenza degli utenti normali quindi individuare delle aree di interesse e fare delle annotazioni quindi dare un titolo alla nostra annotazione di stacco delle dorature nella categoria conservazione e restauro sotto categoria evidenze fisiche e poi andare a incollare un testo anche inserire il link a dei media quindi poi nell'esplorazione ritrovare questo contenuto stato creato dall'editor spero di non dare fastidio se parlo sopra la musica e vado ancora avanti questo invece è appunto l'altro output la vetrina olografica in cui essenzialmente giochiamo con i dati che provengono dalla ricerca scientifica e li trasmettiamo attraverso un linguaggio più leggero per così dire anche un po' ludico se vogliamo un linguaggio più poetico che vuole sollecitare un po' le corde emozionali del visitatore e quindi è un ambiente di mixed reality in quanto la vetrina può contenere anche degli oggetti fisici e le proiezioni virtuali arricchiscono e rendono viva la narrazione questa è la nostra prima versione che abbiamo presentato al festival della scienza di Genova lo scorso ottobre questa è una delle mie pose preferite anche se la miniatura del bagno di tripergule è fronteggiata da versi che non le corrispondono perché riguardano il bagno di prato in effetti alcune carte sono andate perdute nel tempo e la sequenza dei fogli è stata alterata in basso Cristo Redentore rompe le porte degli inferi che si credevano situate nel lago d'Averno per trarre in salvo i morti un personaggio narrante che vive nelle miniature fondamentalmente poi c'è tutto un antefatto che racconta come ci è arrivato eccetera e qui invece abbiamo la parte interattiva che permette di esplorare i diversi livelli di profondità del manoscritto su specifiche pose digitalizzate e selezionare dei punti di interesse quindi le annotazioni che abbiamo visto nella web app in una forma diciamo più semplificata in breve tornano anche nella vetrina olografica e quindi c'è questa doppia dimensione narrativa drammaturgica e di approfondimento personale attraverso l'interazione con la mano che è resa possibile dal sensore lip motion che è comunque un ulteriore elemento di interesse di coinvolgimento del pubblico abbiamo fatto una valutazione a Genova anche sull'usabilità e sull'efficacia delle interfacce e questo elemento di interazione con la mano si è rivelato insomma uno degli elementi comunque di successo dell'esperienza è un po' un'esperienza globale che include tanti aspetti dai contenuti a come vengono presentati i linguaggi lo stile di recitazione la musica l'interazione e bene io credo di aver esaurito il tempo e quindi vi ringrazio dell'attenzione vi rilascio il campo grazie grazie mille Eva veramente molto interessante anche questo progetto ma anche insomma diverso visto che si parla di codici e quindi è una cosa molto molto innovativa e volevo chiedere se ci sono delle domande di scriverle eventualmente in chat così le nostre relatrici possono possono rispondere nel mentere invece passo la parola all'altra esperienza di oggi che è quella del VTM Virtual Transdisciplinary Museums un progetto di ricerca fra architettura e curatela a presentarci saranno Sergio Pacce Manfredo di Robilant Francesca Favaro e Valerio della Scala del Politecnico di Torino insieme a Mariela Mengozzi e Ilaria Pani Mariela Mengozzi è la direttrice del Museo dell'Automobile di Torino e Ilaria Pani è responsabile del Centro di Documentazione sempre del Museo dell'Automobile di Torino che ci illustrano appunto questo VTM questo progetto VTM lascio a voi la parola grazie 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 provo a introdurre io ringrazio moltissimo a parte Anna Marras sempre gentilissima e cortese tutto il gruppo piemontese Michele Anziger per Ricom per aver accolto accolto la nostra proposta di presentarvi questo lavoro che è un lavoro ancora in progress perché deve concludersi a giugno prossimo io mi prendo soltanto in carico di dare un po' una cornice al lavoro poi parleranno Manfredo Francesca e Valerio perché il lavoro nasce all'interno di un bando promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nel 2020 è un bando su intelligenza artificiale uomo e società che aveva una parte dedicata a arte e cultura che appunto ha vinto un gruppo di cui noi facciamo parte è un gruppo molto composito che ha il suo come dire il principal investigator il suo centro di ricerca principale nel dipartimento ESOMAS dell'università di Torino quindi non al Politecnico e il dipartimento ESOMAS è il dipartimento di scienze economico sociali e matematiche come partner di ricerca ci siamo noi del DAD quindi un dipartimento di architettura e progetto e design e poi i colleghi sempre del Politecnico del DOWIN del dipartimento di automatica e informatica questa compagine in realtà si spiega è una compagine abbastanza insolita se vogliamo si spiega con le finalità del progetto il progetto ha sostanzialmente due finalità da un lato intende rendere la gestione museale più efficiente e efficace e questa è la parte soprattutto legata alle ricerche degli economisti chiaramente un aumento dei visitatori un aumento dei biglietti un aumento anche proprio della conoscenza delle esperienze delle pratiche che fanno i visitatori quando entrano al museo è la parte che hanno curato loro sempre attraverso l'applicazione di strumenti nati all'interno del magico mondo dell'intelligenza artificiale dall'altra parte però invece ci siamo noi diciamo così tra virgolette architetti anche se faccio l'architetto come storico dell'architettura però gli architetti che invece hanno avuto in carico l'idea appunto di tradurre questa istanza questa progettualità di nuove forme di visita e soprattutto di aumento di moltiplicazione dei possibili visitatori all'interno dei musei torinesi che sono parte del progetto tra un attimo dico quali sono tentando di costruire una dei musei virtuali appunto quelli di cui parliamo stasera che non sono tanto anzi non sono affatto delle visite virtuali ai vari musei delle visite virtuali come possono esserci quelle di tante esperienze museali nel mondo quanto proprio davvero dei nuovi musei nella dimensione virtuale a far da collante tra la ricerca di tipo economico e la ricerca di tipo architettonico c'è appunto la conoscenza e l'esperienza nata all'interno del dipartimento di automatica e di informatica che è quella grazie alla quale noi stiamo macinando dati e stiamo come vedrete poi mettendo appunto una serie di dispositivi diciamo così che consentono questo ampliamento dell'ottica i musei che partecipano all'avventura e che ci stanno accompagnando devo dire con grande energia anche a dispetto di qualche perplessità iniziale anche nostra voglio dire non tanto dei musei non soltanto dei musei ma anche nostra eravamo tutti quanti abbastanza principianti a questa scala sono la fondazione Torino Musei che comprende la galleria d'arte moderna il museo di palazzo madama il museo d'arte orientale poi veneria veneria reale appunto il mauto e saluto anche qualitativamente ma soprattutto quantitativamente che è il museo egizio e poi anche il polo del novecento che è un complesso di collezioni abbastanza peculiare diciamo della città di Torino e che si è aggiunto all'ultimo solo per alcuni aspetti insieme ai musei che sono i partner principali naturalmente perché senza di loro non riusciremo a fare nulla ci sono anche delle imprese diciamo così delle imprese che ci aiutano nella realizzazione sia della app sia dei dispositivi che consentono la misurazione per esempio dei visitatori e la quantificazione dei dati e così via il progetto vi ripeto sta alle ultime battute abbiamo avuto una proroga fino a giugno ma devo dire ci fa molto piacere presentarlo anche in questa versione non finalissima ma praticamente giunta alla fine perché crediamo che abbia delle potenzialità che possono andare anche oltre la come dire la resa dei conti con la fondazione compagnia di San Paolo che fino adesso passa molto interessata rispetto ai risultati pensiamo che davvero i musei possano essere degli interlocutori di lungo di lungo percorso di interlocutori che possono continuare a ragionare su questi temi magari insieme a noi se lo si vorrà ancora per molto tempo anche quando il progetto sarà finito quello che però vorrei fare subito è passare la parola a Maffredo Di Robiland che mio collega al Politecnico di fatto di architettura quindi architetto anche lui che insieme a due giovani ma validissimi valentissimi collaboratori che sono Francesca Favaro e Valle della Scala hanno dato vita appunto a questa tridimensionalizzazione della virtualità sembra una contraddizione in termini perché come si fa a parlare di tridimensionalizzazione della virtualità ma ci ha convinto a farlo proprio il collega Giovanni Squillero il bravissimo ingegnere che ci aiuta in queste vicende informatiche complicatissime che rimangono per lo più oscure naturalmente a noi poveri mortali che spesso ci ha parlato di spazi a 30 40 dimensioni per cui figurate se ci impressiona pensare a una tridimensionalizzazione virtuale Manfredo ti darei subito Manfredo Francesca e Valeria ti darei grazie Sergio e in prima di vedere di che cosa si tratta dunque quando si tratta di virtualità i musei per ora per lo più hanno trasferito la propria diciamo i propri ambienti reali in esperienze virtuali quindi si cerca di creare un'esperienza che dia l'impressione di essere lì nel luogo questo ha presente delle contraddizioni per cui certi problemi dei musei reali per esempio il fatto che ci siano oggetti che disturbano la vista come gli estintoni piuttosto che le barriere per non avvicinarsi troppo agli oggetti vengono replicati inoltre questa queste tecnologie hanno una obsolescenza molto rapida per cui per esempio il gigante come il Metropolitan Museum in realtà è rappresentato online la visita virtuale è una visita che già adesso nel 2023 risulta essere tecnologicamente dal punto di vista visivo un po' superata ci sono poi iniziative piattaforme che offrono ai musei e anche ad artisti e espositori a gallerie private spazi virtuali in cui esporre che di nuovo si basano sulla ricreazione di ambienti fittizi ma comunque riprendono tutte le caratteristiche di uno spazio reale con i faretti i soffitti fatti in un certo modo e caratteristiche di eltoniche reali c'è poi la il le pocket ci sono poi le pocket galleries di Google Arts che per lo più prescindono da spazi reali ma anche da spazi cioè prescindono da spazi reali ma anche prescindono da spazi virtuali sono solo delle collezioni di opere salvo qualche rara eccezione data questa situazione noi abbiamo pensato a dei musei parlando dei musei torinesi a dei musei virtuali che contenessero opere in qualche modo come dire prestate sotto forma di file dai musei stessi gli otto menzionati prima da Sergio Pace e queste opere sono state selezionate dai team corretoriali dei musei stessi e si vedrà gli ambienti virtuali entro cui sono esposte sono ambienti che nulla hanno a che fare con edifici reali tantomeno quelli dei musei stessi e quindi appunto gli obiettivi di questo nostro progetto anche rispetto allo stato dell'arte che è stato appena delineato sono innanzitutto quello di superare questa concezione di surrogato virtuale moltiplicando invece le possibilità di fruizione museale attraverso la generazione di un nuovo concept di spazio globale che si è esplorabile su una piattaforma online in cui siano messe a sistema le collezioni eterogenee in questo caso delle principali situazioni museali turinesi un altro obiettivo è la concezione di un progetto che consente di sviluppare attraverso l'intelligenza artificiale nuove modalità di concezione dello spazio espositivo e questo appunto è ancora una parte in progress del nostro progetto che per ora invece è esito di intelligenza puramente umana infine il terzo obiettivo è quello di sperimentare nuove forme spaziali sfruttando le potenzialità dello spazio virtuale estendibile potenzialmente all'infinito e quindi ampliare la riflessione sul progetto di allestimento quali sono un po' le regole del gioco che ci siamo dati innanzitutto abbiamo definito 20 musei virtuali attraverso l'identificazione di 20 parole chiave che abbiamo tratto in parte dall'ambito dei sustainable development goals dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite che noi abbiamo un po' inteso come termini rappresentativi delle istanze attuali della società civile a livello globale ma in parte sono termini anche afferenti a categorie che potremmo definire estetiche abbiamo poi quindi allestito ogni museo virtuale con 20 opere tratte appunto dalle diverse collezioni museali coinvolte questa collezione virtuale totale quindi si compone di varie centinaia di opere queste sono appunto le parole chiave che abbiamo selezionato come potete vedere sono molto varie abbiamo climate change per esempio ma abbiamo anche la categoria dell'armonia del caos o quella della commedia invece in questo slide possiamo vedere da un lato appunto le parole chiave e dall'altro quelli che sono proprio i modelli dei 20 musei virtuali in questo caso sono stati appunto schematizzati queste invece sono un'istantanea della ricchissima collezione a cui abbiamo accennato sicuramente un primo tratto evidente è la grandissima eterogeneità di questa collezione possiamo vedere vetture affiancate a reperti archeologici insieme a dipinti in generale si tratta di opere che sono collocate in spazi fisici distanti e che raramente se non mai vengono poste in dialogo soprattutto attraverso temi così inediti come appunto per esempio quello del cambiamento climatico quanto riguarda la costruzione di questi spazi virtuali abbiamo seguito delle regole elementari e a dimensionali siamo nello spazio virtuale infatti c'è un'unità minima che è un cubo che a sua volta è scomponibile in lati e in spigoli e si può assemblare partire da un solo lato oppure può essere può comprendere tutti gli elementi i cubi a loro volta si possono giustapporre e combinare secondo una serie di regole geometriche e nel progettare un museo che è il caso del museo del climate change noi abbiamo pensato prima a partire dal sistema dei nostri cubi che sono un po' come fossero dei pixel tridimensionali abbiamo pensato a una rappresentazione meglio a creare una metafora visuale del tema stesso del museo in questo caso appunto il climate change abbiamo creato una specie di circuito termodinamico in cui si va dal caldo al freddo e i lati lunghi le maniche chiamiamo le lunghe di questo museo rappresentano la stagione calda e quelle corte invece le stagioni più primavera e ottima quindi c'è un'idea di rappresentare attraverso l'architettura virtuale il tema del museo in questo modo si arriva a creare uno spazio che è completamente altro rispetto a qualsiasi spazio reale si evita in questo modo il rischio di cannibalizzazione o autocannibalizzazione dei musei che quando fanno troppi quando sono poi troppo realistici nella loro rappresentazione virtuale questa è la nostra ipotesi rischia poi che disincentivino la visita reale invece in questo caso i musei possono prestare tra virgolette le loro opere a musei trasversari transdisciplinari abbiamo chiamati che non entrano in concorrenza né per tema né per spazio con appunto gli spazi reali qui abbiamo una serie di configurazioni possibili sono appunto volutamente degli spazi che non sono pensati neanche lontanamente come prototipi di eventuali spazi reali addirittura in certi casi cioè in tutti i casi si esce anche si prescinde dalla legge della gravità diciamo per cui si viaggia come dei droni dentro dentro gli spazi le opere sono state selezionate a partire appunto dalle scelte dei team curatoriali dei vari musei e qui entriamo nel merito di tre esempi sì in realtà molto brevemente il prodotto di questo lavoro è stato qui sintetizzato attraverso tre casi che non approfondiremo nel merito di uno dei quali ma che riportare è molto importante al di là del fatto che rappresentano l'output del prodotto perché danno consistenza a quanto espresso finora dai miei colleghi ma i due aspetti più interessanti degli elaborati che vi mostreremo sono come ognuno di questi 20 musei c'è stato esploso in una serie di oggetti che ne descrivono esatto che ne descrivono sostanzialmente lo sviluppo progettuale e dall'altro lato l'altro aspetto interessante mentre parlo scorrono tre musei che sono climate change fragments and education al termine e ognuno di questi elaborati rappresenta di fatto il metaprogetto di quello che sarà poi lo spazio immersivo in cui ognuno di questi oggetti verrà tradotto perché attualmente noi abbiamo in fase di sviluppo un'app che rappresenterà una piattaforma che andrà a costituire questo universo che conterà appunto questi 20 oggetti immaginati come 20 spazi immersivi addimensionali nello specifico giusto per accennare i prodotti ognuno di questi oggetti appunto è scomposto attraverso degli elementi più architettonici come il concept dello sviluppo stesso dello spazio e altri elaborati di approfondimento spaziale sempre messi in relazione però a quello che è il contenuto dunque il criterio di selezione delle opere perché l'altro aspetto più interessante diciamo qui chiudo sulla parte di esplorazione dei casi studio è che tutto il lavoro è stato portato avanti cercando di tenere in parallelo costantemente lo sviluppo progettuale degli spazi e quella che è poi la distribuzione delle opere e ancora prima la selezione delle opere quindi questi che vedete di fatto sono gli elaborati finali che anche se impaginati come quasi come un layout editoriale non sono altro che dei pacchetti di informazioni che stiamo realizzando appunto per andare a caratterizzare poi la piattaforma web per ogni museo abbiamo un video e il museo quindi è navigabile e è possibile poi stiamo studiando con il dipartimento di informatica del Politecnico di Torino il modo di rendere le opere il più possibile interattive l'obiettivo nostro è allargare il più possibile la platea di musei che possono essere interessati a partecipare a questo progetto vale a dire per ora noi abbiamo coinvolto otto musei dell'area metropolitana torinese in quanto partecipanti come noi alla cordata che ha vinto nel 2021 questo bando della compagnia di San Paolo e quindi questi otto musei ci hanno fornito delle opere l'aspirazione qual è? è avere dei contributi in termini di file immagine e di didascalie su Word o Excel da altri musei italiani che vogliano esplorare con noi questa avventura e appunto vedere quali possono essere ulteriori oggetti reperti di opere d'arte che vadano a che entrino per esempio nel museo del cambiamento climatico piuttosto che nel museo dei frammenti o nel museo dell'educazione naturalmente le parole chiave che abbiamo inventato che abbiamo individuato sono meramente come dire di studio parole utilizzate per la ricerca ma non vogliono essere né esaustive e possono sempre cambiare ovviamente la nostra sperimentazione è innanzitutto sul rapporto tra spazio virtuale e significato e tra contenuto e contenitore grazie possiamo lasciare magari la parola sì lasciamo anzi la parola al museo dell'automobile collegata a Ilaria Pani e la direttrice Maria Domingozzi il museo dell'auto come accennava prima Sergio Pace ha partecipato al progetto quindi sentiamo cosa ne pensano grazie grazie dico due parole io poi magari lascio la parola anche a Ilaria che ha seguito operativamente anche più da vicino tutto il progetto diciamo che per il museo nazionale dell'automobile questa è una diciamo una grande opportunità di avvicinare un pubblico che non è quello diciamo degli appassionati di automobili e quella per noi è sempre la diciamo la sfida principale quando si parla di automobili è facile che una parte di pubblico di visitatore di visitatori potenziali si scoraggi pensi magari che non so che ci siano contenuti tecnici che non che non siano in grado di apprezzare eccetera il nostro museo in realtà ha un linguaggio molto immediato molto come dire diretto e quindi offre un'esperienza sicuramente di grande impatto ma con questo questa trasversalità questa opportunità di leggere l'automobile attraverso parole chiave che mettono l'automobile in relazione a oggetti opere d'arte completamente diverse diciamo mettiamo davvero il visitatore al centro dell'esperienza e diciamo gli diamo l'opportunità di considerare l'automobile come una un ampliamento diciamo di conoscenza che magari non avrebbe preso in considerazione anzi probabilmente sicuramente non avrebbe preso in considerazione perché ripeto il nostro in particolare è considerato proprio un museo molto così verticale molto specialistico quindi diciamo che l'interpretazione la lettura delle parole chiave adesso in questo caso come è stato detto è una fase iniziale insomma è tutto migliorabile perfettibile però il fatto di rendere secondo noi visibili le nostre collezioni in associazione con altri mondi altri altre collezioni altri musei della città di Torino con una chiave di lettura di interpretazione che non è quella tecnica dell'automobile secondo noi è davvero una una grande novità ecco dove la la tecnologia diciamo è davvero al servizio del visitatore che che vuole approfondire che vuole essere incuriosito che vuole essere stimolato a ragionare a vedere diciamo gli oggetti in un altro su altre prospettive ecco quindi secondo noi è davvero una così un progetto che ha una validità importante poi è evidente che insomma queste queste app tutti questi strumenti insomma anche sul territorio necessiterebbero di una sistematizzazione perché insomma ci sono tanti progetti tante iniziative noi stessi abbiamo i nostri percorsi virtuali abbiamo insomma tanti tanti strumenti che stiamo sviluppando e così anche la città insomma quindi quello è tutto un altro diciamo tema però diciamo questa trasversalità di lettura la possibilità attraverso il museo virtuale di collegare oggetti diversi secondo noi è molto molto interessante io non vedo l'ora di di vederlo davvero operativo quindi grazie a tutti grazie davvero Mariela perché siete stati dei partner essenziali beh ci abbiamo creduto ecco diciamo che insomma sicuramente per noi l'opportunità è proprio tangibile sì bene io ringrazio tutti i relatori Anna Maria Marras per la sua puntualissima moderazione e darei la parola ai partecipanti con un paio di domande che sono arrivate oltre quelle diciamo che avete già visto più tecnico pratiche relative al webinar e la possibilità di recuperarne registrazione slide in particolare Antonio Cangelosi ci dice premetto che le esperienze presentate sono veramente eccellenti vorrei sapere se sono state testate anche da persone con disabilità visive e uditive visto che nel primo intervento aspettate un attimo visto che nel primo intervento è stato messo in evidenza che i musei e le mostre virtuali vorrebbero affrontare il tema dell'accessibilità fisica grazie per la risposta chi vuole rompere il ghiaccio sul tema no questo è un punto senz'altro di interesse fortissimo è un punto che genera una una riflessione molto vasta sulla dimensione della realtà virtuale per quanto riguarda noi no non abbiamo e non è vuol dire chiaramente è un tema che ci lascia scoperti e non abbiamo pensato per ora a andare a anche compensare disabilità visive o uditive questo no non possiamo fare il bride però non ci abbiamo pensato insomma non è una cosa siamo in fase di sviluppo quindi però senz'altro grazie per la domanda soprattutto se posso aggiungere credo che questa giustissima riflessione sulle disabilità possa essere oggetto di una riflessione a un stadio ulteriore cioè quando queste nostre ipotesi progettuali spaziali poi confluiranno o nell'app che viene predisposta oppure nel sito web cioè credo che sarà come dire mentre per adesso siamo in una fase di progetto è come se poi nel momento della realizzazione attraverso la virtualità del web o dell'app questo poi dovesse trovare appunto una soluzione a questi ostacoli non so se Eva Pietroni voleva aggiungere qualcosa all'altro CNR poi naturalmente mi scuso e recupero l'aria pani del Mauto perdonatevi oggi ho veramente un raffreddore tremendo e ho fatto questa gas mi scuso ma recuperiamo risposta brevissima così lascio spazio è un tema assolutamente fondamentale su cui anche noi siamo tanto coinvolti soprattutto da alcuni anni questo tema dell'accessibilità e abbiamo anche sviluppato diverse installazioni proprio all'insegna della totale accessibilità perlomeno per quanto riguarda persone su sedia a ruote persone cieco ipovedenti e sorde e chiaramente sono molto stringenti le soluzioni se davvero vogliamo andare incontro ai bisogni di queste persone quindi bisogna veramente fin dall'inizio fare una progettazione che tenga conto e che parta dai loro bisogni per poi diciamo allargare il tutto ad un pubblico più ampio eccetera quindi diciamo non è una cosa accessoria ma da mettere al centro fin dall'inizio per quanto riguarda il progetto codex sicuramente il sito web diciamo di presentazione del progetto è stato pensato con dei criteri di accessibilità quindi grandezza dei font spazi allineamenti anche per la lettura automatica dei software che hanno appunto le persone che c'è e quindi diciamo è stato pienamente pensato per quello non è ancora pubblico perché stiamo finendo di realizzarlo per quanto riguarda la vetrina olografica e l'applicazione della web app ci sono dei criteri di base di accessibilità ma non nel senso pieno a cui accennavo all'inizio e anche se in realtà noi abbiamo progettato una vetrina olografica accessibile come dicevo prima però non l'abbiamo ancora realizzata nell'ambito di questo progetto quindi grazie per la domanda e sicuramente è un tema su cui fortunatamente le persone sono sempre più sensibili e anche noi come istituzioni culturali quindi però non è banale ecco questo è proprio una progettazione differente se uno la vuole rendere pienamente accessibile ci sarebbe un mondo da approfondire sul tema oggettivamente Ilaria mi scuso di nuovo facciamo un passettino indietro e torniamo appunto tra le colleghe del Mauto in realtà faccio una conclusione rapida così lascio anche lo spazio le domande anche perché il direttore Mariela Mengozzi è stata super esaustiva la presentazione dei colleghi di architettura è stata chiarissima in realtà a lato nostro operativo abbiamo accolto fin dall'inizio il progetto come diceva il direttore ed è stato anche stimolante perché in realtà ci ha permesso di riflettere da un punto di vista molto diverso sulle nostre collezioni perché banalmente queste parole chiave in realtà hanno stimolato anche dei collegamenti dei contenuti che non sono nostri che non appartengono al nostro mondo e alle nostre tematiche la possibilità poi di essere interconnessi anche con gli altri musei è sicuramente per noi una sfida interessante anche perché lo si vedeva dalla slide dove c'erano insieme tutti i reperti analizzati noi facciamo proprio un po' ci distinguiamo proprio queste vetture in mezzo ai reperti archeologici o alle opere d'arte sono veramente un effetto straniante e per noi in realtà molto stimolante tra l'altro una cosa che abbiamo oltretutto apprezzato ancora di più da questo progetto è il fatto che non si va assolutamente a sovrapporre con le soluzioni adottate dal museo sia da un punto di vista digitale sia da un punto di vista proprio di museo vero e proprio perché da un punto di vista virtuale noi abbiamo dei virtual tour che stiamo comunque sviluppando ma questa è sicuramente una cosa diversa una cosa altra e da un punto di vista di percorso espositivo questo progetto ci ha anche permesso in realtà di mettere in luce oggetti della nostra collezione che non sono nel percorso espositivo non sono visibili quindi sono un passaggio ancora in più per cui insomma non possiamo che essere positivamente contenti della partecipazione a questo progetto e non vediamo l'ora di partecipare a questa visita volante nel mondo virtuale grazie mille Ilaria tra l'altro sicuramente è tutto un tema quello dei depositi e di tutte le opportunità che si aprono con il mondo virtuale proprio per quello che stavi dicendo in queste ultime battute qualche altra domanda è arrivata però saremo giusti adesso se posso risponderei solo molto rapidamente a Salvatore Ivar Raffaele in effetti i musei virtuali non è tanto che vogliono decontestualizzare le opere quanto creare dei nuovi contesti per le opere reperti oggetti forniti da appunto musei che hanno delle ragioni sociali molto diverse tra loro appunto quindi si tratta di cercare nuovi significati e senza assolutamente andare a negare o rigettare i significati filologici delle opere stesse grazie inoltre se posso aggiungere soltanto a titolo di chiarimento la cosa fondamentale è tenere presente l'obiettivo iniziale cioè quello della diciamo così messa a sistema del complesso di musei che hanno partecipato e probabilmente che potrebbero degli altri musei che ancora potrebbero partecipare l'idea molto semplice che è quella da cui siamo partiti su cui lavoravamo proprio all'inizio e faccio un esempio stupidissimo però il visitatore del museo dell'auto per esempio vede appassionato di auto appassionato di vetture d'epoca e di quello che il museo dell'auto conserva potrebbe essere stimolato da queste associazioni visibili nel museo virtuale potrebbe essere stimolato a appunto associare alla macchina X o la macchina Y nel motore o quant'altro esposto nel museo nell'auto potrebbe essere stimolato a riconoscere o conoscere ex novo un'altra opera fosse un'opera d'arte un'opera d'archeologia che per motivi vari si potrebbe associare associare a un'automobile e quindi essere indotto da visitatore reale in visita in un museo reale potrebbe essere indotto a visitare un altro museo reale in quanto visitatore reale cioè è bene considerare che l'esperienza nella nostra intenzione perlomeno parte e finisce nei musei reali diceva benissimo Ilaria Pani non tocchiamo minimamente le collezioni ci mancherebbe ma neanche i criteri espositivi i criteri di scelta i criteri di allestimento quello non voglio dire che non ci interessi ma quello è una questione museale che rimane assolutamente lì quando il nostro visitatore avrà avendo visitato il museo A associato al museo A anche il museo B andrà a visitare il museo B noi siamo soltanto l'anello di connessione diciamo così tra i due musei che rimangono assolutamente reali e se mi permettete di scendere molto con i piedi per terra che però è un argomento che è sempre sempre vincente avendo pagato il biglietto del museo A pagherà il biglietto del museo B laddove dei nostri musei non si paga nessun biglietto ovviamente tutto qua grazie di nuovo farei una piccola digressione anche se abbiamo superato di pochissimo l'orario ma ci terrei a leggere ancora due domande una che è arrivata nella nostra chat diciamo degli organizzatori ed è proprio da parte di Eva Pietroni del CNR che oltre appunto a fare i complimenti per il progetto sui musei immaginari astratti come un bel lavoro appunto di design grafico e concettuale chiede se si potrebbero usare questi ambienti virtuali per ospitare contenuti e mostre realizzati da terze parti oppure ogni museo virtuale è un design inscindibile fra ambienti e opere no questo è proprio il nostro auspicio che questa collezione del tutto provvisoria è come dire è ampiamente discutibile di 20 perché noi non siamo curatori di mestiere siamo architetti che questa collezione di keywords possa suggestionare e generare altri temi altre parole chiave intorno a cui costruire nuovi musei fatti ad hoc con le stesse regole che abbiamo illustrato e sempre con l'idea che poi possono essere usufruiti come spazi dispositivi da più musei quindi senz'altro c'è una grande apertura su questo e ci fa molto piacere che se si crea un dialogo senz'altro sarebbe molto bello per esempio quando veniva illustrata la bellissima esperienza bellissimo lavoro sui manoscritti abbiamo pensato beh sarebbe bellissimo fare un museo virtuale per questi manoscritti con delle con una figura architettonica virtuale che in qualche modo parli dei manoscritti stessi aggiungo solo che posso brevemente che questo qui è interessante perché questo è stato un tema diciamo di cioè era una delle domande su cui facendo ricerca ci siamo imbattuti perché uno dei diciamo dei propositi era quello di immaginare che ognuno di quegli spazi fosse incrementale in parallelo all'incrementalità della collezione quindi all'aggiungersi di nuove opere quello spazio potesse espandersi però per essere anche molto onesti e trasparenti uno dei temi quando si fa ricerche è anche sbattere contro i muri attualmente diciamo che l'espansione spaziale di quegli oggetti è una strada un po' complicata però a livello metodologico non c'è nessun problema nell'estendere diciamo le opere o le collezioni però siccome nella domanda c'era il tema se sono attualmente gli spazi correlati alla collezione effettivamente attualmente questi oggetti sono fortemente connessi a quell'eventi opere ma più per un problema tecnico che non di ipotesi metodologiche è stato chiaro grazie però appunto a partire dalle nostre regole del gioco possiamo ci potete commissionare musei virtuali di qualsiasi soggetto grazie ottimo io provo a fare un rapido check per sapere se il nostro presidente è ancora collegato se vuole dire qualcosa in chiusura se no abbiamo sforato di ben sei minuti e vi ringrazio tutti anche il pubblico che naturalmente ci ha seguito fino alla fine e ricordo appunto che la registrazione sarà disponibile su youtube e che le slide anzi qui lo chiedo poi anche ufficialmente a tutti i relatori saranno pubblicate se loro ce lo consentono sul sito di Comitalia ecco Michele non so se vuoi dire due parole in chiusura no no abbiamo fatto tardi è veramente ammirevole l'avanzamento di pensiero oltre che tecnologico che ho potuto seguire e davvero questo mission questo insieme organico di crescita dei significati in modo di fare dei musei troverà tantissime risorse dalle ricerche che state svolgendo quindi grazie Barbara e grazie Anna Maria per aver raccolto delle esperienze così significative che davvero ci hanno io parlo proprio in questo momento non tanto da presidente Icom ma da operatore di museo da direttore di museo che davvero ci si trova a volte nella difficoltà anche di trovare delle linee guida di alto profilo e questo di questo pomeriggio sicuramente è stato un evento di questo tipo quindi grazie davvero Anna Maria un saluto finale da parte tua io volevo ringraziare tutti i relatori perché abbiamo fatto una sorta di escurso abbiamo visto non dico tutte le possibilità ma le grandi possibilità che ci offre la realtà virtuale quindi grazie grazie a tutti benissimo allora vi auguriamo buona Pasqua e ci aggiorniamo in maggio con un nuovo Giovedì Comitalia grazie a tutti per aver partecipato a presto auguri grazie grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti